La stessa domanda che abbiamo fatto a Bologna, dove siamo stati in questi anni? La differenza di queste chiazze, se lo chiedono sempre, è che noi non puntiamo il dito verso i vertici, non puntiamo il dito verso la politica strappa, verso i candidati, la puntiamo contro noi stessi, perché se tutto questo è potuto succedere è anche e soprattutto per colpa nostra. Ciò che è brutto da dire, ma se torniamo a casa, se risiediamo sul tivano e torniamo a criticare, non abbiamo capito niente di quello che sta succedendo. E credo che sia molto bello, abbiamo tanti amici liminesi, ci sono tanti liminesi che hanno amici bolognesi, è bello perché le nostre due città si scambiano e sono attraversate da un pulso contino in estate verso Imini, in inverno verso Bologna, ed è molto bello trovarsi non solo nei banchi di università, non solo sotto l'ombrillone, ma prima in me a parlare di società e di politica. Questo è tutto l'importante. E non dobbiamo l'orgoglianza a parlare di politica, non dobbiamo l'orgoglianza a riconoscersi in un capitolo, non dobbiamo l'orgoglianza a riconoscersi in un'idea di società complessa. Questo è un po' lo stagio abbracciato. Abbiamo abbandonato tutto il discorso politico che gli smogano a qualcosa di semplice. Abbiamo avuto paura di dire che la politica, la vita reale è complessa, è complessità e è profondità. Grazie a tutti.